Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e rallentamenti tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. Per questi lavori l'entrata di Empoli Est è chiusa in direzione Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla variante di valico della 1, stanotte in orario 21.6 sarà chiuso il tratto tra Albivio con la variante di valico La Quercia e Aglio in direzione Roma. Contestualmente chiusi anche gli svincoli di Badia e Firenzeola in entrata verso Roma e in uscita provenendo da Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!